lascia like a questo video se ami tua mamma se non lascia like a questo video non l'ami quindi lascia like a questo video veloce lascia like a questo video e iscriviti al canale con la campanella se vuoi che ti regalo un account moddato oppure se vuoi che ti moddo il tuo account di gta 5 line e commenta più volte nei commenti con il tuo id e con la tua piattaforma così ti potrò dare la tua ricompensa e inoltre ogni video 15 persone potranno partecipare alle mie money lobby su ps4 xbox one e pc quindi commentate nei commenti con i vostri id prima di partire col video volevo parlarvi velocemente di questa pagina con cui sto collaborando chiamata easy gta.shop una pagina dedicata al 100% del mondo di gta 5 line infatti questa pagina offre come vedete recovery su gta 5 line principalmente per ps4 e pc come vedete ci sono esattamente money boost per ps4 come vedete con il prezzo più basso in italia infatti come vedete potete aggiungere esattamente più di 120 milioni a botta e utilizzando il coupon il codice coupon xtyanox come vedete sotto prima di acquistare ogni prodotto avrete esattamente un 5% di sconto all'interno di ogni acquisto quindi come vedete basta cliccare qui applica coupon inserire il coupon xtyanox e da lì avrete esattamente lo sconto successivamente come vedete i metodi di pagamento sono 100% validi quindi no truffa e comunque questo sito qua è 100% affidabile ed è veramente veramente velocissimo con le conseglie poi come vedete abbiamo anche i money boost per le persone da pc costano veramente veramente pochissimo come vedete i money boost per il pc anche lì acquistandoli col coupon xtyanox avrete uno sconto del 5% potete acquistare anche nord vpn comunque come vedete con nessun tempo limite comunque di diciamo utilizzo e come vedete avete veramente una decisione vasta di mod menu per pc su gta 5 online inoltre come vedete potete esattamente aggiungere anche come vedete del deluxo all'interno comunque del vostro account come vedete c'è anche in questo momento un 80% di sconto ragazzi quindi io direi di approfittare ora per acquistare comunque le deluxo anche qui se inserite attenzione il coupon il codice xtyanox avrete ancora un altro sconto ancora di più quindi ragazzi approfittate ora link nella descrizione per il nuovo DLC infatti ragazzi da come avete letto dal titolo esattamente vi siete chiesti dove è il trailer di gta 6 infatti ragazzi il 15 dicembre infatti è stato ieri la rockstar games ha twittato all'interno del proprio comunque come vedete ufficiale twitter infatti della rockstar games infatti come vedete esattamente quello ufficiale con un video con esattamente 6,2 milioni di visualizzazioni ha esattamente twittato un leaks ragazzi esattamente di comunque il nuovo diciamo la nuova intro di gta 6 infatti come vedete all'interno di questa clip c'è il logo e c'è questa specie comunque di vedete effetto visivo veramente veramente fantastico che annuncia che comunque il gta 6 esattamente in preparazione e non manca tantissimo comunque questa qui sarà esattamente come vedete la intro il logo di caricamento che ci sarà all'interno di gta 6 io credo che comunque sia veramente veramente tanta tanta roba come cosa infatti non è inerente al nuovo dlc di gta 5 line ma esattamente a gta 6 fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate secondo me è una cosa veramente veramente fantastica però ragazzi pre di chiudere il video è veramente importantissimo infatti ragazzi a brevissimo sta per uscire il nuovo dlc infatti se avete bisogno di aggiunte di soldi all'interno del vostro account oppure comunque acquistare del denaro e comunque rango e automoddate all'interno di gta 5 line passate ora in questo momento nel link nella descrizione e utilizzate il coupon xtianox per avere uno sconto del 5% su grazie a tutti